Fino a martedì, quando la loro questione sarà affrontata a Palazzo Moffa e quando è stato stabilito saranno ricevuti dal governatore Frattura, rimarranno in presidio davanti la sede della giunta regionale. Sono i 68 lavoratori di Esattori e S.P.A. che non mollano insieme ai sindacati, vogliono capire se continueranno a lavorare e in che modo. Da aprile non saranno più coperti da Cassa Integrazione, una vicenda alla loro che va avanti da un anno. L'esecutivo di Frattura ha deliberato a fine dicembre la costituzione di una società in house a partecipazione pubblica a Molise Entrate che con contratto di affitto può rilevare quel ramo di azienda di esattorie che ha svolto attività di accertamento e riscossione tributi assorbendo tutti i dipendenti in Cassa Integrazione da giugno dell'anno scorso. I lavoratori, la cui situazione ogni giorno più difficile ed esasperata, attendono ora una risposta definitiva ma Frattura aspetta il parere dell'Avvocatura di Stato sulla fattibilità del progetto. Una soluzione deve essere trovata il più presto, dicono perentorie le organizzazioni sindacali. Sono in presidio davanti a Palazzo Vitale anche i dipendenti di Pianeta Service 14 che hanno operato come committenti con esattorie provenendo alla notifica degli atti. Pure per loro c'è stata la Cassa Integrazione per il periodo luglio- ottobre dell'anno scorso e sono in attesa dell'approvazione di quella da novembre 2013 a giugno 2014. Inoltre, ha spiegato Franco Spina della CGL, avanzano ancora il pagamento di tre mensilità e sono stati importanti per il lavoro di esattorie per esperienza e competenza. La richiesta dei lavoratori è di includere anche loro nel percorso che la Regione ha avviato con esattorie e comunque di trovare una soluzione per utilizzarli come sottolineato anche dai sindacati. Sull'argomento c'è un'interrogazione a firma della consigliera di centro-destra Fusco Perrella al presidente, Frattura e al vicepresidente della Giunta regionale Petraroia, nella quale si chiede anche di procedere in via prioritaria all'approvazione della Cassa Integrazione fino a giugno e nel caso non possa costituirsi molise entrate, quali possano essere le soluzioni alternative per tutelare tutto il personale coinvolto nella crisi della riscossione dei tributi.